Potrebbe riaprire già in tarda serata il ponte sul fiume che conduce alla rampa di accesso dell'asse attrezzato da Piazza Italia e via Paolucci a Pescara chiuso dalle 3.30 di questa mattina per consentire alle ditte Asdea e Tecno Bitumi di valutare la sicurezza statica del viadotto. Per permettere a mezzi e persone di eseguire i lavori indifferibili e urgenti il lato monte del viadotto è stato interdetto al transito veicolare unitamente alle tre rampe di accesso al ponte che partono rispettivamente da via Paolucci lato sud di Palazzo di Città da Piazza Italia lato est di Palazzo di Città e il tratto di via Paolucci direzione Maremonti che dall'intersezione con via Bologna immette sulla rampa di accesso all'asse attrezzato. Dal comune fanno sapere che i disagi per gli automobilisti soprattutto nelle ore di punta sono però giustificabili con l'esigenza di garantire la sicurezza dei cittadini che già da stasera e comunque al massimo entro le 22 di domani salvo imprevisti come scritto nell'ordinanza firmata lo scorso 20 maggio potranno tornare a circolare liberamente sui tratti viari oggi intardetti. L'altro fronte caldo sempre in tema di viabilità resta quello della tangenziale per i lavori di manutenzione del cosiddetto viadotto Pescara sulla strada statale 714. Sulla circonvallazione che collega Montesilvano a Francavilla al mare l'intervento dell'ANAS riguarderà il chilometro 7,100 nel territorio di spoltore per lavori di manutenzione del sistema di raccolta e convogliamento delle acque della piattaforma stradale. Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza è stato disposto un restringimento di carreggiata in entrambe le direzioni tra i chilometri 7,100 e 7,800 sia di giorno che di notte e fino al 10 giugno data prevista per la fine dei lavori e per la fine degli incubi degli automobilisti.